Ciao a tutti ragazzi, io sono MisterAto1988 e avevo un'idea, vi prego di non essere spietati, diciamo che spulciando su Youtube ci sono molti ragazzi che fanno video recensioni di film, di libri, di videogiochi, ma diciamo che manca la figura vera e propria della persona che faccia le video recensioni sulle band rock alternativo, grunge rock, punk rock, hard rock e vediamo se ci possiamo riuscire a fare qualche video recensione anche di un po' di metal, questo diciamo era il mio progetto, la mia piccola idea se riusciva a venirne fuori e se voi anche con un paio di consigli mi date qualche aiutino, è il primo video che faccio, sono un pochettino nervoso, diciamo questo è l'inizio ecco, mi sto presentando e spero che se voi volete e accettate io vi posso dare, faccio delle recensioni sulle band, giustamente secondo i miei gusti voi se volete che io vi recensisca qualche band secondo i vostri gusti me lo fate sapere, mi contattate tramite email o in qualche commento, però al momento posso fare questo, al momento parto con un video la settimana, per quanto riguarda la recensione di band, band come ho detto io secondo i miei gusti e secondo il genere che vi ho detto poco fa, tutto qua, penso sia tutto per il momento non ci sia altro da dire, spero soltanto che vi piaccia questa piccola idea e vi prego di non essere troppo spiedati con me, ok? Ciao ragazzi, a presto!